Inside Meeting Speciale congresso EULAR 2013 Dai farmaci in sperimentazione alle ricerche di nuove cune Le ultime novità dal congresso dell'EULAR La European League Against Reumatism Svolto sia a giugno a Madrid Con una carrellata degli studi più interessanti Illustrati dagli autori Speciale congresso EULAR 2013 Questo mese su Doctors Life Doctors Life Il futuro dell'informazione e della formazione medica